Con la vittoria di Adi al Mistro Olimpia 2022 e il secondo posto di Derek Lansworth penso sia nata una nuova e bellissima rivalità che durerà nei prossimi anni, perché penso che da adesso in poi Adi e Derek ogni anno si giocheranno il Mistro Olimpia a vicenda come lo facevano Ronnie e Jay. Perché appunto guardando l'Olimpia l'altro weekend Derek e Adi erano veramente molto molto vicini e Adi ha vinto di poco, perché aveva delle poche cose in più che Derek non aveva, ovvero un po' più di sweep nelle gambe, un po' più di volume nei quadri sciviti sulla parte frontale e una migliore separazione muscolare dei migliori dettagli e stridature nell'upper body, nel petto, spalle e nelle braccia. Però per il resto erano super super vicini e dopo il pre-judging non avevo idea di chi avrebbe vinto la gara, perché i ripeto erano veramente super super vicini, quindi penso che nei prossimi anni nascerà appunto una bellissima rivalità tra i due. E forse già anche dall'anno prossimo si aggiungerà anche Nicole, che continua a migliorare sempre sempre di più, però gli manca ancora un po' per vincere l'Olimpia, quindi per il momento la rivalità sarà tra Derek e Adi. In più non penso che Rami da campione uscente potrà in futuro riconquistare l'Olimpia, perché quest'anno è veramente molto molto peggiorato, non solo di condizione ma anche muscolarmente. Ne avevo parlato ecco meglio nel video di due giorni fa in cui Rami ha detto che non mollava, quindi se potete approfondire ecco guardate quel video perché ne ho parlato veramente molto molto bene. E appunto per questo Rami non penso sarà in grado di riconquistare il titolo, penso che non potrà più migliorare l'anno prossimo, però mai dire mai, perché tutto può succedere. Come tutti davano per favorito Rami a quest'Olimpia, alla fine è arrivato quinto, perché tutto può succedere alla fine, però per il momento l'unico favorito che vedo che può battere Adi, che può conquistare il titolo in misto Olimpia, che se lo merita al 100% è Derek Lansford. Che alla fine è apparso tutto, tranne che piccolo, all'Olimpia, Derek è veramente stato mastodontico sul palco d'Olimpia, appena ha fatto la presentazione singola e ha fatto solo una rilassata frontale, il pubblico è letteralmente impazzito. Ha fatto subito quella rilassata frontale con la vita strettissima e le rotondità nell'upper body incredibili, il pubblico è letteralmente impazzito. Poi ha fatto ancora il front double bicycle perché ha la sua miglior posa e le pose di schiena e il pubblico ha continuato sempre di più a impazzire. E Adi deve stare veramente molto molto attento, già darà una prossima a Derek perché Derek è veramente molto molto affamato. Non ha molto da migliorare, un po' più di volume nei quadricipiti sulla borda frontale e più strutture, più definizione, ecco, una pelle un po' più sottile nell'upper body e il gioco è fatto, Derek sarà ancora più pericoloso perché La shape ce l'ha, la condizione anche. Una cosa che ho notato di molti atleti al pre-judging dell'Olimpia è che appena hanno fatto le presentazioni singole, la posing routine iniziale, Molti avevano un velo di acqua in corpo, poi però man mano che sono iniziati i confronti e sono iniziati a fare le pose, quest'acqua è scomparsa perché appunto iniziavano a fare i confronti e suddavano e spellevano quest'acqua. Uno tra questi è Adi che quando l'ho visto posare per la pose con routine l'ho visto un po' cuoso, però appena hanno iniziato i confronti era completamente l'opposto. E secondo me il motivo per il quale molti atleti sono arrivati un po' acquosi all'inizio è perché hanno aspettato veramente molto per fare il pre-judging, cioè sono saliti sul palco quelli dell'open intorno alle 11 di sera, che è veramente molto molto tardi, perché hanno passato delle ore nel backstage seduti e sdraiati, continuando a mangiare per ricaricare per non essere affatto sul palco, però man mano che mangi il corpo cambia, il corpo trattiene un po' più di liquidi e quindi questo secondo me è il motivo per il quale molti atleti sono arrivati un po' acquosi sul palco perché hanno aspettato troppo, troppo per fare il pre-judging. Hanno iniziato tipo alle 11 di sera e hanno finito verso l'una, quindi veramente molto molto tardi. Comunque poi tornando su Adi e Derek, ora Adi sicuramente si prenderà tutto l'anno off come fa sempre per dedicarsi solo al misto Olimpia, magari Derek potrebbe fare anche l'anno classic tra tre mesi a marzo. Uno che so già che farà l'anno classic è Nicole, che l'aveva già annunciato qualche settimana fa nel podcast di Flex Lewis, che dopo Olimpia avrebbe fatto l'Arnold per riconquistare il titolo che ha vinto nel 2021. E magari anche Derek potrebbe fare l'Arnold a questo punto, ora che è il secondo miglior bodybuilder al mondo, potrebbe fare anche l'Arnold così magari da avere un po' più di esperienza nell'open e anche, perché no, qualche soldino in più, non fammi male dato che ora mi pare che il primo premio per l'Arnold classic sia tipo di 200.000 dollari e non fanno mai male 200.000 dollari sul conto corrente, quindi potrebbe fare anche l'Arnold anche perché poi avrà molti mesi per dedicarsi solo all'Olimpia perché l'Arnold sarà a marzo e l'Olimpia sarà, ecco, cos'era, la prima settimana di novembre dell'anno prossimo e quindi avrà il tempo per rilassarsi, fare un off-season e fare la preparazione per l'Olimpia. Forse avrà meno margine di miglioramento perché ha avuto una preparazione più lunga, però comunque 200.000 dollari in più non fanno mai male sul conto corrente. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche secondo voi l'anno prossimo sarà già una bella rivalità, una bella sfida tra Adi e Derek e se magari si inserirà anche Nick Walker, fatemelo sapere. Come lo sapete con il like e un commento e ci vediamo un nuovo video.